Salve e benvenuti nel mio regno, io sono Peonia, the Queen of the World e siamo sempre su Skyrim Questo episodio lo sto registrando subito dopo il precedente, ma shh, non lo diciamo a nessuno Comunque, nello scorso episodio abbiamo assediato Wytran e adesso è in fiamme, che bello Quindi, siamo tornati qui a Wyn... Boh, in questo momento non mi ricordo, Wynterold? Può essere? Wynndelm? No, è Wynndelm Niente, oggi, come ho detto pure nello scorso episodio, sto proprio fuori di capaccia Vabbè, comunque stiamo qui e siamo venuti a riferire a Ulfic, che abbiamo preso Wytran Salve, biondo! Abbiamo preso Wytran! Adesso ci sta un vecchiettino, che non è molto simpatico, sinceramente Però ci sta un vecchiettino Abbiamo, tu sei stato qui, abbiamo, però vabbè, abbiamo Perché? Va bene, fa un po' come mi pare Ma insomma, adesso prendiamo una per una tutte le città Allora, vediamo un po' L'ho capito Quindi, andiamo Io sempre che mi sbaglio No, no, per una volta avevo aperto quello giusto Allora, andiamo Fall crit, quindi Ah, qui Io pensavo di andare direttamente qui Sì, ma l'accampamento lo fai qua giù? Mamma mia, vabbè Ah, sono dentro una casa, scusa, perdonami Lo so che non si fa Poi perché non si fa? È tutto da vedere Perché già i viaggi non sono normali Però, vabbè, lasciamo perdere Ma in quasi tutti i giochi è così Quindi, andiamo ad Elgen Ad Elgen Minghe Andiamo ad Elgen E vediamo che cosa c'ha da di Galmar Poi ce la dobbiamo fare tutta a piedi fino al fall crit Mamma mia Ti prego o no, eh Ah, io non ci sono mai tornata, Elgen Vediamo un po' Mamma mia Meglio che non ci tornavo Ah, ma c'era gente Shhh Credevo che era deserta Va bene, non fa niente Andiamo da Galmar Scherzavo Cosa? Ah, no, no Ma io non ho fatto niente Ma non ho fatto niente Non mi sono avvicinata Mi stavo anche andando Aia Aia Prima mi sono anticipata con l'aia Così imparate Io non avevo fatto niente Devo dire che è quasi ora di cena E inizio a avere fame Se mi era venuta sette secondi fa la fame Non iniziavo l'episodio Va bene Sempre nella neve E questi accampamenti, eh Che bello Cavalli Ciao, cavallo Ehi, amico mio Non è vero, non siamo amici Per niente A morte, Dalmor Schifo Lezzi A rapporto Dove? Ci penso io Li libero tutti Non sono da sola Va bene Ok Noi siamo più furbi A voglia Ma ti pare? Bene ghiacciate Perché? Mi fa schifo a me questo nome Non sono qui per voi Non sono qui per voi Abitanti di Elgen Tanto carini Che non siete in realtà Tanto carini Perché mi avete attaccato a buffo Ma devo andare di qua Ma io non lo vedo sto forte Ah, eccolo Salve Buongiorno Non dovevano esserci dei miei amici? Ma ci sono i miei amici Che stanno combattendo Niente cose stealth Non capisco No Scusami Ti sei messo in mezzo Se un giorno leggerò il Roloff Mi metto a piangere Maledetto Perché? Sono storta con l'arco Scusa Non volevo Quindi mostro da sola Va bene Scusate Non l'ho fatta apposta Che questa cosa rimanga tra noi Nessuno verrà mai a scoprire Che ho sterminato Mezzo esercito di manto Sono venuto da qui A liberare un po' di manto Della tempesta E ne ho uccisi Niente 25 Povera me Eh sì Così ho uccito pure quello Amico Ah è Roloff Oh mio Dio Se l'uccidevo Guarda Ma ti vuoi fare i cavoli suoi Una volta ogni tanto? Oh Baule La goroncina ci piace Rossa Ci piace molto Roloff Io ti seguo Ma Ma Come è morto questo? Oh mio Dio Roloff Non ti metti davanti Mincavolo Oh mio Dio Spettacolo Roloff Dove dobbiamo andare? Non lo sai neanche tu? Da qui stiamo uscendo Roloff Andiamo Sei bloccato? C'hai paura che Ti uccido? No Sto attento Giuro Gli altri sono stupidi Andiamo Vabbè io entro Dove va esattamente? Vabbè Raghi ci siamo Ci prendiamo i formaggi Perché sono buoni E fanno bene Alle ossa Oh Sta tornando Salve Molto utile Cos'era che il forte Era molto difficile Tutto il resto? Salve C'è qualcuno qui? No Mamma mia Mamma mia Mi sono spaventatissima Addio Altro che giochi horror Dai Apriti Brava Basta chiedere le cose Oh soldi Oh frecce Belle Salve Mamma mia Che numero Questo era un po' meno numero Ma dove è andato? Dove sei andato? A far che? Ma vieni qui E quindi? Ah L'agguato era questo Ah Bello Ci prendiamo tutte le spade Tutte mie Vediamo pure Col peso aumentato Lo riempio Sto cosa L'inventario Ma sai com'è? Non c'era la mia Amica A White Run A cui vendo tutte le cose Chissà come mai Eh? Maledetti Non dovevate fare questa cosa Non dovevate fare questa cosa Mi sono rimasto male Spero che prima o poi Sia giusto Wild Run In qualche modo Tutti esco Non fanno finta di niente Oh è cambiato Yarl Che bello Però boh Non lo so Un barile Questo è un barile Guarda quante stanze Uh Madonna Guarda quanta roba Ma una persona normale Come faceva? A prendere tutta sta roba Che fai? Lasci qui Cioè io se la vendo Mi faccio quattro case Guarda Mamma mia Mamma mia Che roba Qui va esco Benvenuta Ahia Forse non c'era Che cosa mi ha fatto male Non ho Ben capito Beh non trovo la scala Che scende Oh bene Tu eri quello di Ma Ah ma qui sto di nuovo Alla sala Allora non è qui Che dovevo andare Perché c'è il segnalino Qui Se non era qui Che dovevo andare Ah quindi prima Dobbiamo ucciderli Ehi dove sono Io non li vedo Roloff Madonna mi sono incastrata Sullo scalino Imperiali Dove siete? Che non riesco Ad andare avanti Che mi si blocca Roloff Scusate Roloff Ma c'hai Le allucinazioni Cioè non vedo Assolutamente nulla Oh Dentro di qua Magari si Sblocca Ah prigione Uh uh Perché io devo liberare I prigionieri Sicuramente Stanno nella prigione Che ragionamento Ci sareste mai Arrivati voi Perché sta laggando Mi è stato due Tre laggate Salve L'avevo sentito Però Oh Come sei Resistente Da dove state uscendo Dal camino? Finiti? Esce qualcun altro? No Tirami fuori di qui Ma chi è che sta parlando? Quello da sotto Credo Va a capire come mi ha sentito Che schifo Ehi Mo arrivo Un attimo Ci stanno Ci stanno le cose da prendere Un attimo Mamma che stress che sei Guarda che ti lascio lì C'è l'ho la chiave Hai visto? Dai Uscite Uscite Yeee Ah tutti i vestiti adesso Che carini Ah stavano qua dentro i vestiti Ah carina Simpatica questa cosa Mi è piaciuto Tutti con sti cugini Ma Aspettate Tutti la stessa cosa dicono Mannaggia sti cugini E finiscono tutti nella Le mantone della tempesta Dove sto andando esattamente? Non lo so ma mi piace Poi ci muoio Ah no Ho perso Skyrim Ci sono rimasto male Credevo che c'erano tipo Dei super tesori nascosti Invece no Niente Erano tipo le fogne De sto forte Brava Vuoi far rimanere male me Così Tutorial Vi fate entrare Scusate Dov'è l'entrata? Giro giro dondo Casca il mondo Casca la terra Fatemi entrare nel porte Radoff Scusa se sono uscita da qua Mi sono sbagliata Dove sei? Cosa ancora fa? Il ponte Eh ma non erro Ah ciao T'avevo scambiato per quell'altro brutto Che rendersi della nostra vittoria Io resterò qui E sistemerò le cose Va bene Va bene Andiamo da Ulfric Ulfric Ti devo dire una cosa Ulfric Ti devo dire una cosa Sono andata Sono andata in missione Ho ucciso tre soldati Però ne ho servato i quattro Quindi Eh E conviene Non vuole ucciderli Giuro Giuro No La corona La corona La corona Ti prego Non me la darà mai Ah Va bene Va bene Abbiamo rimediato una casa Va bene Va bene Dai Pensavo bello Cioè io casa ce l'ho C'ho Quella del DLC Vicino a Folkrit Appunto Però vabbè Una casa non si Non si rifiuda mai Bene Io direi di concludere qui l'episodio Io spero come sempre Che vi sia piaciuto Se così fosse lasciate un like Commentate Iscrivetevi Condividetelo con lo diverso E seguitemi su Instagram Perché Instagram è bello Io vi aspetto qui In un mio piccolo regno In un prossimo video Miau Ciao a tutti Ciao a tutti